Ben tornati ragazzi nel diciannumese inizialista, io come sempre sono in giro del vuoto arrivati qui, ho parlato con Dahlia Gallerpy, o Killerpy e dobbiamo andare adesso verso il negozio di Antiguoriano, dico abbiamo appena preso la chiave sto spiegando strada per uscire, ovviamente si la strada è abbastanza semplice e anche molto veloce se evitiamo i mostri però, prima dobbiamo capire dove è questo negozio di Antiguoriato quindi noi andiamo qui, sui telefoni, ci sono i telefoni ed elenchi copre la locazione del negozio di Antiguoriato nella cartina, perfetto per chi vuole salvare, qui c'è il punto di salvataggio e ora possiamo uscire finalmente da questo maledetto ospedale oh mio dio cosa? è una cosa odiosa questo posto, ma lo saranno ancora peggio le fogne fidatevi, questo è niente al confronto bene, dobbiamo andare verso Sagan Street e girare sulla destra e poi dritti ah raga, mamma mia sembra strano ma solo ieri stavamo ancora a 144 iscritti e poi stavo a 160 ma come crescete? no come i funghi, di più, di più e la cosa non può che farmi piacere ovviamente perfetto, adesso dobbiamo girare per di qua andare di sopra sto andando bene, spero sì e aspettare che la strada si interrompa comunque ragazzi, questo gioco è qualcosa di eccezionale peccato che non ne facciano più, veramente ecco, usate le cavi del decorto di antiguariato perfetto entriamo e tra poco, ecco, qui c'è un altro punto di salvataggio accendiamo la luce non c'è nulla di che, a parte questo armadietto guardate per terra come per l'ospedale c'è da spostare questo coso spingo l'armadio, ovviamente sì e prima ora arrivi in un'altra cutscene non c'è 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 un'altra cutscene fourn des si I try to make sense of it, but then my mind goes blank Everything's dark there, and I hear sirens in the distance I met this nurse, Lisa It's like I was there, but not really It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry Oh, I was just wondering, never mind Harry, you're tired Yeah, maybe Senza il forse sei stanco Bene, dopo questa lunga cutscene Andiamo verso questo lungo corridoio Attraversiamo quest'altro buco E troviamo Esatto, questa è l'altra chiesa che diceva Gaddai la Gallespi Sani ragazzi, io per questo video vi saluto Se volete lasciando un mi piace, un commento E sempre se volete iscrivervi al canale Al vostro doverevole è tutto Stay follow!